Che fai? Leggo Harry Potter Ah Che fai? Leggi ancora Harry Potter? Così te lo sognerai la notte Dobby resta a casa Fatelo anche voi È per il vostro bene e per il bene di tutti Dobby è un elfo libero e nessuno gli può dire cosa deve fare Ma Dobby resta a casa perché Dobby non vuole prendere il colore avverso E Dobby lo fa anche per tutti voi